Con la risoluzione numero 5 condivisa dalla maggioranza, il Senato impegna il Governo, assicurando il pieno coinvolgimento di Parlamento, Regioni e enti locali a salvaguardare gli interventi espunti dal PNRR all'esito dell'aggiornamento del Piano, individuando le giuste coperture finanziarie mediante l'utilizzo sia delle risorse nazionali, Piano Nazionale Complementare, sia dei fondi strutturali e del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. Parliamo di progetti che riguardano temi e questioni importanti e chiaramente importante è poi realizzarli concretamente.